Sanremo 2023, doppia sorpresa per la prima puntata di stasera Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in Sala All Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo Lo annuncia Amadeus, e sempre Amadeus fa sapere che sul palco ci sarà anche Roberto Benigni Scaletta prima serata Sanremo 2023, stasera apre Anna Oxa. Ospiti, torna Blanco e c'è Salmo Monologo di Chiara Ferragni Mattarella a Sanremo, avere con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è l'occasione per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni Ha detto Amadeus annunciando la presenza dell'attore stasera al Festival di Sanremo E Gianni Morandi, questa sera, canterà l'inno nazionale al Festival di Sanremo Lo apprende in questo momento, scherza Amadeus in conferenza stampa Lo conosco bene, sono preparato, la risposta di Morandi L'annuncio, ho il piacere e l'onore di annunciare che per la prima volta nella storia del Festival stasera, ci sarà il Presidente Mattarella, ha detto Amadeus, annunciando la presenza del Capo dello Stato stasera in sala È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo Oggi pomeriggio sento Roberto per i dettagli Farà una lettura di un brano della Costituzione Non so ancora quale, ha poi aggiunto Amadeus Quest'anno è il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, e il Presidente ha già cominciato a partecipare a iniziative che riguardano questo anniversario, per esempio con il giorno della memoria Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo, è il Festival della Cultura Popolare Lo spiega Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, parlando della presenza di Mattarella, sarà accompagnato dalla figlia Laura L'emozione di Chiara Ferragni, sono molto emozionata, e molto onorata di essere qui Chiara Ferragni si presenta così alla sua prima uscita pubblica al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi Non sono una conduttrice, non sono un'attrice, cercherò di portare me stessa e di mettercela tutta Penso sarà un bello spettacolo, ha detto l'imprenditrice digitale che sarà presente anche nella serata finale nella conferenza stampa del mattino All'invito di Gianni Morandi a cantare insieme, Ferragni però non ha ceduto, ve lo risparmio ha detto schermendosi Se lo sapessi fare, lo avrei già fatto, ma davvero no E poi rivolgendosi al direttore artistico, grazie ama di avermi voluta qua